Salve e buongiorno, sono Thomas Platz, responsabile di vendita della dita ebiasi di lana. Noi produciamo giardini d'inverno, tendaggi, infissi, seramenti. Noi siamo venuti qua in questa fiera perché abbiamo soprattutto anche clienti qua sul lago di Garda, nel Trentino, soprattutto anche in Alto Adige e cerchiamo di soddisfare gli albergatori per le loro terrazze che possono chiuderlo e aprirlo come le serve. Cerchiamo di tenerle via le intemperie contro vento, contro pioggia e contro il brutto tempo che possono usufruire delle loro terrazze quando vogliono. Noi siamo molto contenti di essere su questa fiera qua, abbiamo visto tanti vecchi clienti, ma abbiamo avuto anche buoni contatti con nuove clientelle che hanno molto soddisfatto sul nostro prodotto e hanno visto delle belle cose, sperando che poi possiamo anche soddisfarli.